Siamo qui con Romano del Real Circhi Capì 1-1 contro un buon atletico Madrid Sfortunati, tanto sfortunati lì davanti Il portiere ha fatto pure lui belle parate, pure il nostro La partita è equilibrata, bisogna vedere adesso nel secondo tempo Chi riesce a tenere più forze Va bene, si può colore per il secondo tempo Andiamo a parlare ora con i giocatori Andiamo da Carlo Gesche Gesche, parliamo un po' della prestazione Una schifezza, è dell'anticipo C'è pure l'arbitro vicino, dobbiamo dire qualcosa all'arbitro? No, l'arbitro sta arbitrando bene Non è una partita così scorretta o così maschiatale È facile d'arbitrare Cosa serve nel secondo tempo per voler vincere questa partita? Giocare proprio diversamente Non siamo stati noi il primo tempo Di solito siamo una squadra guerrita, se no stiamo correndo Va bene, ci bocciamo uno, il secondo non è valore Perché il colore è già male E a fine il finale di partita che non sta affrontarsi Il Real Circa più contro l'Atletico Madrid Partita prima 4-2 per l'Atletico Madrid Siamo qui con i due migliori in campo Migliori in campo MP Serio Migliori della squadra Troppo uscita il sconfitto De Micco Giusto? De Micco Primo tempo molto equilibrato Prestazione positiva Secondo tempo dove loro sono usciti meglio palla al piede Sono riusciti a concretizzare meglio le azioni da gol Mentre voi avete trovato uno strepidoso portiere dalla parte opposta E anche un po' distrutto Abbiamo accusato molto sulle ripartenze Poi il portiere ha parato l'impossibile Quindi oltre non potremmo fare Fisicamente abbiamo fissato Però complimenti alla squadra di Stato Diciamo che è stata però una bella partita Sì, sì, assolutamente Voglio salutare qualcuno? Salutiamo Riccardo che esce sconfitto a campo Con un fallo che ha subito all'ultima truppa Speriamo che si riprenda più presto Sì, la voce sta cambiando Ciao Abbiamo ora da Vincenzo Serio Tripletta per lui Doppio gol su produzione Trilurgico E un po' calcio di rigore Diciamo Potevi fare anche qualche gol in più Però diciamo Prestazione così per tutta la squadra Magari qualcosina da rivedere in difesa Magari diciamo Sì, sì Abbiamo fatto una buona prestazione La difesa mantiene Sempre perché comunque Noi attaccanti non ritorniamo mai Sempre che si è venuto in campo Che fa una ricotta Che si è venuto Vabbè, se state sentendo Che voi la gelosia di Gesche Però In fondo tutti lo sanno Come si era partito Quei solo che fai il rimezzo Allora, Gesche Ha munito Ultimo secondo Fallo inutile Te lo giuro Due falli fatti Non torna in giro Uno l'ha ciappato pure Ma mi è dispiaciuto Comunque sì Diciamo formazione Un po' da rivedere Solo per noi attaccanti Che non tornamo mai Però comunque abbiamo Enrico e la forza Che ce lo permette Va bene Se chiedi a dedicare Questi miei uniti Sempre a Gesche Polverino e Cestari Che comunque Mi pregano di venire E io li sto Mi prego In focca al lupo Per la prossima Ciao